Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati sulla colla serie delle 7 con i nostri gamberetti signori miei Allora sto guardando un attimino la classifica ma prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto che stai dando a questa serie e che darete a questa serie Spero vi appassioni come sta appassionando a me praticamente Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Facebook e su Instagram, di più su Instagram che su Facebook, comunque i link li trovate in descrizione E in descrizione trovate anche il link se volete donare per sostenere il canale ragazzoli Detto questo partiamo col video Ok ragazzoli, allora come stavo dicendo, sto guardando la classifica, noi siamo 15esimi a 40 punti Dico e per essere una promossa non stiamo andando abbastanza male diciamo La zona retrocessione è a 25 punti, quindi diciamo abbiamo 15 punti di vantaggio sulla zona retrocessione Ma siamo sotto di non so quanti punti, di 15, di 13 punti, neanche più di tanti Di 13 punti dalla zona playoff per andare in championship raga ma per quest'anno la vedo molto difficile Allora noi ci siamo lasciati l'ultima volta con un discorso di mercato Andiamo a vedere un attimo la rosa raga per capire se effettivamente Allora noi importiamo messi bene, un LTS lo stiamo cercando In difesa abbiamo Hamilton, Sutton e Bulu che è incavolatissimo, Bulu mio Sutton è l'unico che non si lamenta, c'è Greta, 34 anni, 60, mamma mia Raja e Braxton sulla destra, Sutton e Benicolson e Davis che è in prestito Wilding, che è successo a Wilding? Vedi, blocco offerte, perché c'ha il segnalino, il divieto tipo di sopra? Competizione nazionale, una squalifica, pronto per giocare Boh, forse perché è squalificato, penso di sì Al centro di campo abbiamo quindi Wilding, Mariani, Tutte e Raid Quindi sono 4 e si giocheranno loro i posti in campo Sulla destra abbiamo Sullivan e Casadei, poi Johnson in prestito Morris, Leight, Howard, Slow e Stockholm che è rotto Ok, quindi in attacco abbiamo Morris, Leight, Howard e Slow E Slow, signori miei Ok, allora io vorrei portarmi anche Naga però Vorrei promuovere Naga e farlo crescere Quindi direi, mettiamo Slow che è un 60 Lo mettiamo sulla lista trasferimenti E Howard che ha 21 anni e un 60 Lo liberiamo direttamente, raga Così non se ne parla più Che aveva solamente rotto le scatole E ci portiamo Naga, ce lo portiamo in panchina Lo proviamo dalla primavera E Stockholm che tra poco ritornerà Sarà pronto a prendere il suo posto a titolare Detto questo, signori miei Andiamo a decidere quale giovane andare a comprare Allora, noi non abbiamo nessunissima informazione su nessuno di questi Su nessuno di questi Io purtroppo sto registrando in rapida successione a questo episodio Quindi non ho avuto la possibilità di andarmi a informare E non so minimamente quanto possono valere E quanto possano essere interessanti Howard, lui e DelCity 19 anni, 18, Aydar Andiamo a vedere questo Cesar Aydar, raga Contatta per acquistare Vediamo quanto ci chiedono Io neanche so quanto abbiamo di budget, raga Però vediamo, vediamo cosa riusciamo a fare Ci servono effettivamente dei giocatori O che sei brutto Allora, il nostro Papa Maullo Vediamo che raccordo è offerta per il cartellino Gli offriamo Non dobbiamo fargli arrabbiare, raga Ma penso che con 800 dovremmo uscircene bene, no? Penso Ci riusciamo bene con 800? No, mamma mia Sbroccato di brutto Esagerato, zio Pregliati la pilota per il cuore Mamma mia, testava esplodere il cuore Non gli è piaciuta l'offerta di 800 Quindi Aydar ce lo siamo fumato Perfetto Poi aspettate perché c'era qualcuno che aveva la causa della rescissoria Quindi vediamo di non Bella per esempio c'è la causa della rescissoria di 1,9 Quindi non la potremo mai prendere Abbiamo Harwood Harwood Andiamo su Harwood Del Manchester City Questa mi sputano in faccia, raga Questi mi sputano in faccia Ma io non posso spendere tanti soldi Perché devo comprarne due Ah, guarda Del Manchester City Chi è venuto? Guardiola direttamente È offerta per il cartellino Ehm Noi abbiamo 1.8.000 È del City Proviamo a 900, raga Proviamo a 900 Ci credo che sbroccano pure con lui per 900 Dico, parliamone Oh, Guardiola è trattabile 1, 2,50 Harwood Harwood Controfferta Controfferta è di nello stesso Offerta del cartellino Allora, gli andiamo a dare 9,50 Dai Il nostro Papa Mauro deve riuscire a usare tutte le sue fonti di Un milione Va bene, dai Un milione Vediamo, accetta, accetta Accettiamo lui Giochiamocela su tutti, raga Giochiamocela Allora, lui possiamo andarla a trattare Perfetto Ehm Stergui Stergui Sergei No, Sergei non si può dire Stergui Leone Leonidas Il nostro Leonidas No, ma io voglio il Leonidas, raga Leonidas Il nostro Il nostro spartano Voglio Leonidas, raga Non mi interessa Ho deciso Il nome mi ha convinto Voglio Leonidas Leonidas Offerta per il cartellino Ehm Quanto ti potremmo dare senza farti sbroccare? 9? Dai 9, ci stai A 9 ci stai Dai Leonidas 1,850 1,850 Porca di una paletta Ambriaca Quindi quanto meno si può trattare Controfferta Zio, secondo me l'hai sparata un poco troppo alta Ma l'hai fatta molto fuori dal Dal La faccio come supermercati 9,9,9,9,9 in saldo Guarda Faccio come supermercati Dai 9,9,9,9,9 Ci stai? 1,850 Porca di una paletta Non c'è cascato raga Di solito uno nei supermercati ci casca Rinegoziamo Ehm Allora Non te li posso da questi zio Non esiste 1,150 Dai Avanzo Abbiamo bisogno di tempo per il papa BAM Mmm Niente Leonidas non è dei nostri raga Andiamoci a prendere Harwood Bowls Ehm Andiamo a trattare Andiamo a trattare per Harwood Bowls Niente Hanno bisogno di tempo per riflettere Non esiste Vediamo lui cosa ci chiede Speriamo Importante Vuole essere importante Importante è buono Importante non è cruciale Quindi va bene Ci stiamo Ci stiamo Ci stiamo Ehm 5 anni Minimo 5 anni minimo I termini Va bene Ignoriamo la causa recessoria 7,2 Più tutti quei bonus Allora Contro offerta Leviamo i bonus E 7,2 Modifica stipendio Ehm No, 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 no Porca Modifica stipendio Te ne ho voluto semplicemente da 7 7 Ok, così Va bene Ok Avanzo offerta Va bene Ci state? Non esattamente Però va bene Buono Abbiamo il nostro difensore centrale Raga Abbiamo il nostro difensore centrale Ora Andiamo a vedere un attimino Gli esterni sinistri Allora Zagre Non a caso recessoria Hickley Non a caso recessoria Ok 18 18 Lince Ha a caso recessoria Kenwood Ha una caso recessoria Abbastanza alta Allora Iniziamo da Zagre Che mi sta simpatico Con questo capello Sbarazzino Contatta per l'acquisto Del Monaco Del Monaco Del Monaco Vediamo cosa ci dicono Vediamo cosa ci dicono Salve Lieto di conoscervi Ok Me sono rimasti pochissimi soldi Zio Quindi facciamo un'offerta Per il cartellino E ti offro 900 La trattiamo Giusto? Dico Perfetto ragazzoli Allora Zagre Ha accettato Ha accettato il Monaco Vediamo L'altro Se riusciamo A prenderlo a meno Dove sta? Abbiamo I Perché l'inste Abbiamo detto Si Ickley Ickley Aaron Il nostro Aaron Vediamo se riusciamo a prenderlo a meno di 900 Se riusciamo a prenderlo a meno di 900 Risparmiamo qualche cosina E abbiamo E puntiamo su di lui Anche se la faccia non mi ispira per niente fiducia Però Andiamo sull'offerta di cartellino Trattativa Vediamo se accettano 800 Raga È la loro occasione Gli volete 800? O O O impazzite? No Sono impazziti Ma dai Ma non gli si può dire nulla Raga Ma sono Non si può dire nulla Che impazziscono tutti subito Va bene Basta Mi ando a prendere Mi ando a prendere a Zagre Ad Arthur Il nostro Arthur Andiamo a trattare Sperando che accetti Raga Perché se non accetta Siamo messi abbastanza male Se non accetta Siamo messi male Raga Allora Vuole essere cruciale Controfferta Ci posso dare importante Zio Mi sa che abbiamo fatto La cretinata Vuole essere cruciale Raga No No Cruciale Non glielo posso dare Raga Se no mi Mi va a litigare Con Con il nostro esterno sinistro Il buono No Niente da fare Termina trattativa Niente da fare No No Non glielo posso dare Cruciale Raga Allora Vediamo un attimino Chi c'è rimasto qui Lindsay L'uomo dai capelli a spazzola L'uomo dai capelli a spazzola Andiamo a contrattare Per l'acquisto No Inizia la trattativa Con il club Rischiamo 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 Vediamo se riusciamo a Strappare un prezzo migliore Offerta per il cartellino Hanno una clausola di 1.200 No Gli diamo 900 Dai Non sbroccare Non sbroccare Zio Siamo soddisfatti All'offerta Ma vai a quel paese Dai C'hanno C'aveva la clausola di 1.200 Ma dai Dai Lindsay Non mi deludere Lindsay ti prego Lindsay mio Capelli a spazzola Il nostro spazzolone Il nostro spazzolone Non mi chiedere Cruciale Ti prego No Cruciale No Eh va bene Cruciale Cruciale Vediamo se per caso Accetta importante Vediamo se per caso Accetta importante No Accetta cruciale Eh va bene Avremo un Molto nervoso In squadra Raga 4 anni di contratto Va bene 4 anni di contratto Aggiudicato Non neanche noi vogliamo Ah ma stanno a dire Tutte cose loro Va bene Niente clausola Recessoria Va bene Così Ma magari lo stipendio Non me lo dice Io ti ammazzo Io ti ammazzo Eh 6.000 Con 20.000 Di stipendio Di bonus 30.000 Di bonus Mi sembra un offerto Li abbiamo dato troppo Porca miseria Va bene Va bene Meglio di niente Meglio di niente Ok va bene Il mercato L'abbiamo fatto Raga Abbiamo comprato I due giocatori Che ci servivano Andiamo a vedere Quanto sono di overhaul Praticamente Vediamo se abbiamo fatto Un buon acquisto Abbiamo preso Delle ceofeche Abbiamo Stiamo andati a prendere Harderwood Hardwood Che è un 65 Lindsay Che è un 66 Dai dai Non sono male Il nostro capello Spazzola Il nostro hardwood Sono due ottimi giocatori Signori miei Due ottimi giocatori Ok Detto questo Completiamo oramai Le ore di mercato Che ci attendono Alla fine Di questa Dato Donnarumma È passato Dal Milan Al Bayern Di Monaco Inaccettabile L'offerta Vabbè Ve lo tenete Noi abbiamo Abbiamo già fatto Abbiamo già fatto Donnarumma È passato Al Bayern Di Monaco Per 93 milioni Porca paletta Mamma mia Tanti soldi Nelle casse Del Milan Allora Offerta Per il trasferimento Per Sutton Chi è Sutton Sutton Il nostro difensore No No Sutton Non se ne può andare Mi dispiace Abbiamo gli uomini contati Nei vari reparti Quindi non possiamo Più vendere Dobbiamo chiudere il mercato Così Dobbiamo chiudere il mercato Così Trattativa interrotta Va bene Non ci interessa Non ci interessa Fate quello che volete Dai 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 Concludiamolo Amai questo mercato Arriviamo alla fine Delle ore Proiettiamoci al primo febbraio Che tra l'altro Dovebbero anche arrivare Gli osservatori Quindi sarà Offerta Per il trasferimento Per Sle No Ho detto come se ne va più nessuno Siamo in chiusura Si chiude Si chiude Ragazzi Si chiude Dai così Ultime due ore Di mercato E la chiudiamo qua Dai così Kimi che invece è passato Dal Bayern di Monaco Al Manchester Per 91 Cioè il Manchester Ha pagato Donnarumma Al Bayern di Monaco Praticamente Ok ragazzoli Mercato finito Ok Siamo al primo febbraio Sono arrivati Se noi hanno a botta di mail Che però vedremo nel prossimo episodio Detto questo ragazzo Vi ringrazio per il like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao Ciao